pace del signore cari buona giornata di benedica oggi è 5 giugno sono le 7 del mattino rivolgiamo la nostra attenzione al salmo 3 col desiderio di essere benedetti e consolati nel considerare quello che questo salmo proclama mi soffermerò in un modo particolare sull'affermazione tu sei uno scudo intorno a me che è una verità bella importante consolante sotto diversi aspetti perché nelle avversità nelle afflizioni come credenti noi ci rivolgiamo al signore non per imputargli la colpa di quello che ci sta accadendo ma per ricercare piuttosto la liberazione che egli ci può dare anche le persone che non credono o si trovano nelle difficoltà esattamente come noi la differenza è che i primi tendono nonostante dichiarano di non credere ad addossare a dio le colpe di tutti i mali che ci sono su questa terra noi credenti invece sappiamo bene che il male è una conseguenza del peccato in tutte le sue manifestazioni e che l'unico che ci può aiutare per uscirne fuori è il signore e proprio per questo lo invochiamo sarebbe sciocco dal clonde arrabbiarsi con chi ci vuole aiutare prendersela con chi ci tende una mano per poterci tirare fuori le persone che si adirano con dio non si rendono conto che stanno facendo del male a se stessi e stanno rifiutando quella mano tesa che avrebbe il desiderio di poterli aiutare e tirare fuori dalle circostanze della loro vita quelle avverse naturalmente intendo davide fu colpito da molte afflizioni e questo con notevole frequenze alcune furono veramente dure da sopportare e queste alcune dipessero dal suo peccato ad esempio quello che commise con batceba o betzabea a seconda della versione che leggete altre a causa della sua incuria riguardo ai propri figli ad esempio si trovò ad essere perseguitato da absalom suo figlio che voleva usurpare il regno altre volte si trovò nelle afflizioni semplicemente perché qualcuno ad esempio saulo si adirò contro di lui senza che ci fosse alcun motivo ma a prescindere qualunque fosse la causa e qualunque fosse la difficoltà davide continuava a rivolgersi al signore e a vedere in lui uno scudo intorno alla sua vita che lo avrebbe potuto proteggere aiutare ad uscire vittorioso da tutte le prove che stava affrontando egli davide intendo si era rifugiato alla presenza di dio e lo vedeva quasi come un amico fedele a cui poteva confidare tutto quello che avveniva nella sua vita e da cui poteva ricevere l'aiuto necessario gesù a un certo punto dirà nel piangere su gerusalemme 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 quante volte ti avrei voluto raccogliere come fa la chioccia con i pulcini ecco davide si era lasciato raccogliere da dio viveva sotto le ali paterne protettrici del signore ed ecco perché egli poteva dichiarare tu sei uno scudo intorno a me ecco perché anche quando la situazione si fece angosciosa ed apparentemente insolubile lui poteva dire tu sei colui che mi solleva il capo e cari lo stesso dio che ha riabilitato e ripristinato l'autorità di davide ancora oggi vuole sollevare tutti coloro che malgrado le cadute e le incertezze continuano a confidare nel suo nome davide in un altro salmo mi riferisco al salmo 37 al verso 23 disse che l'uomo le cui vie il signore gradisce se cade non sarà atterrato egli quindi alla luce della liberazione che il signore gli aveva concesso nel passato è convinto che il signore continuerà dinanzi al suo pentimento e ravvedimento ad avere compassione e cura della sua vita e per questo lo invoca lo invoca sapendo che anche in questa situazione particolare quella descritta nel salmo 3 il signore non si tirerà indietro ma ascolterà il suo grido e vogliamo noi in questa mattina fare lo stesso io non so se tu che mi stai ascoltando stai attraversando un momento difficile della tua vita forse a causa di tuoi errori o forse a causa della malvagità di qualcun altro quello che ti voglio dire però è che se tu invochi il signore con tutto il cuore e lo fai avendo fede in cristo e nell'amore che egli ha mostrato su di noi per attraverso la croce tu potrai ricevere quell'aiuto che davide ha ricevuto infatti questo salmo ci è stato lasciato affinché noi potessimo avere la consapevolezza che nelle prove se noi ci accostiamo al signore e se noi riponiamo la nostra fede la nostra fiducia in lui noi vedremo la vittoria perché il signore saprà remunerare ricompensare la fede che noi riponiamo in lui davide seppe riconoscere nel signore la fonte delle sue vittorie e delle liberazioni che realizzò e per questo egli poté esclamare egli cioè il signore mi risponde dal monte della sua santità per questo invoca il signore invochiamo il signore insieme lo diamolo con gratitudine per tutto quello che lui ha fatto ma anche per quello che lui sta per fare dobbiamo avere questo sentimento di riconoscenza nei confronti di dio perché il signore come dice al trovo un altro salmo ha fatto cose grandi nella nostra vita per questo noi oggi possiamo essere qui per gioire nella presenza di dio anche se magari ci sono momenti difficili e questa gioia che il signore ha messo nel nostro cuore che è una conseguenza della salvezza che abbiamo ottenuto in cristo ci accompagni tutti i giorni della nostra vita anche quando dovremo attraversare la valle dell'ombra della morte sì cari ancora stamattina vogliamo invocare il nome del signore forse ci attende una giornata difficile dinanzi alla quale siamo forse anche spaventati non importa egli sarà il nostro scudo e il nostro rifugio confidiamo in lui cerchiamo lui preghiamo lui e il signore che è fedele non mancherà di ascoltare il nostro grido e di intervenire secondo il suo piano glorioso affinché la nostra fede possa essere fortificata la pace del signore la sua grazia il suo amore la sua guida rimanga con noi ancora in questo nuovo giorno dio ci benedica grazie a tutti